La cosiddetta legge Mancia oggi in Consiglio regionale, l'ultimo prima della pausa estiva, la realtà è che la legge Mancia resterà intatta, 22 milioni per 2300 beneficiari, tra cui scuole di karate, padel, piscine e attività varie, associazioni e comuni. Qualche frizione in maggioranza c'è stata, il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia vuole emendare alcuni fondi che erano stati inseriti invece dall'assessore Quagieri nella legge di assestamento. Tutto da zerare perché nell'ottica della normale dialettica volevano vederci chiaro, spiega Verrecchia per capire i criteri, però dall'opposizione arrivano solo critiche strumentali, dice. È una legge omnibus che viene adottata anche da altre regioni per far fronte ad alcune esigenze nel campo sociale, nel campo dei piccoli comuni e quant'altro, quindi non riteniamo che ci sia una legge che sia stata fatta in modo non trasparente, ma riteniamo che la minoranza sia strumentalizzando soprattutto una legge che è stata varata alla scorsa consigliatura. Oggi di punto in bianco si pensa che quella legge non sia stata fatta con i criteri e desiderata da parte della minoranza, ma che vede protagonisti gli stessi che hanno scritto insieme a noi quella legge. Si dovrà intraprendere questa attività emendativa che è una volontà da parte della maggioranza che ha voluto vederci chiaro e soprattutto riflettere su alcune destinazioni di fondi importanti solo su alcuni comuni che ne escludono più di 300 d'Abruzzo. Quindi riteniamo un normale iter legislativo che va affrontato e va risolto nel più breve tempo possibile. Opposizione dura a questo modus operandi però da parte del capogruppo di patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico che ha presentato un emendamento che invita ad un uso più trasparente dei fondi pubblici per D'Amico e fondi dovrebbero essere usati per creare un fondo a beneficio dei comuni, per sostenere il trasporto pubblico, per mitigare i danni dell'agricoltura, per un bando pubblico per assegnare risorse ad associazioni denti che siano veramente meritevoli. La situazione dei conti regionali è una situazione che davvero destra molta molta preoccupazione. Abbiamo un disavanzo della sanità che viene preannunciato ma che non si riesce ancora a quantificarlo e che comunque si preannuncia assai ingente, con dei servizi sanitari che sono in continua riduzione. Non voglio qui ricordare liste d'attesa, voglio ricordare l'allarme che lancia il procuratore regionale e la Corte dei Conti che ha scritto nella sua relazione di parificazione, ha scritto in modo chiarissimo che in alcuni non socomi ai ricoverati viene chiesto di procurarsi al di fuori della struttura i farmaci più costosi. In una situazione del genere continuare ad indulgere con elargizioni non giustificate da alcuna utilità pubblica verso associazioni, in alcuni casi persino privati, circoli per lo più ricreativi, non è più tollerabile.